Il perdurare della crisi e la concomitante difficoltà nella ricostruzione post-sisma stanno colpendo in modo irreversibile le imprese dei lavoratori dell'edilizia abruzzese e per cercare di trovare una soluzione l'edil Cassa Abruzzo ha organizzato un convegno per lunedì 18 luglio a Teramo con la certezza che attraverso il confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, sindacati e imprenditori si possa trovare una risposta a queste problematiche. Noi come edil Cassa siamo un po' il termometro della situazione perché poi le nostre circa 1800 imprese con 8000 lavoratori siamo noi poi a dover mettere alle nostre imprese il certificato di regolarità contributiva e tutti sappiamo l'importanza che ha questo documento. Sto riscontrando un aumento di certificati negativi purtroppo e quindi abbiamo pensato di organizzare questo convegno coinvolgendo tutte le parti quindi le parti istituzionali, politiche e quant'altri per cercare assieme delle soluzioni. Il settore delle costruzioni si sta bloccando, si sta fermando ed è un vero e proprio peccato perché di fronte a una crisi internazionale, globale tutti gli economisti hanno sempre dichiarato, ed è così, che il settore delle costruzioni è capace di rimettere in moto l'economia perché ha una funzione anticiclica. Possiamo aggiungere un'altra considerazione. Questa è una crisi della domanda. Tutti i giornali di oggi citano che per esempio all'Aquila per la ricostruzione c'è bisogno di trovare sistemazione a 30.000 persone quindi ricostruire l'Aquila, i comuni del cratere e quindi la domanda ci sarebbe se ci sono anche i finanziamenti perché questa ricostruzione non parte, perché il settore delle costruzioni non si rimette in moto in Abruzzo e perché non aiutano la stessa economia abruzzese a risollevarsi. Ecco, noi vogliamo partire dal DURC, dalle implicazioni del documento unico di regolarità contributiva, perché questo è il tema del convegno però per interloquire con i responsabili, i rappresentanti della regione quindi il presidente Chiodi e il vicepresidente Castiglione per fare delle proposte proprio per aiutare questo difficile momento e aiutare l'economia e i cittadini abruzzesi.